GF VIP7, Chiara Rabbi commenta il comportamento di Davide Donadei e le parole spese nei confronti di Oriana Marzoli, non sbaglio mai. Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, concorrente del grande fratello VIP7, ha lanciato una stoccata al vippone. Sebbene l'ex corteggiatrice non abbia fatto il nome delle ristoratore, tutto lascia intendere che la frase da lei pronunciata facesse riferimento all'ex tronista. Questo sarebbe deducibile dai recenti comportamenti di Donadei nella casa di Cinecittà, dove ha esternato pessime considerazioni su Oriana Marzoli. L'influencer venezuelana, questa mattina, era intenta a scherzare con l'amico Luca Onestini quando d'improvviso ha urlato, oddio, non respiro. Davide, che in quel momento si trovava in cucina, udendo la frase della compagna, ha affermato, magari, conciò scatenando inevitabilmente l'indignazione del web. Molti internauti stanno chiedendo a gran voce che il concorrente venga squalificato al più presto. Considerata la gravità della sua esternazione. In tal senso occorrerà attendere la prossima puntata delle reality show. In onda lunedì 23 gennaio, per capire se il conduttore Alfonso Signorini e gli autori del programma decideranno di prendere provvedimenti. Intanto, Chiara ha pubblicato un Instagram Story in cui, rivolgendosi ai suoi followers, ha sottolineato. C'è una frase che vi devo dire, io ve l'avevo detto. Ma voi non mi credete mai. Io ve l'avevo detto. A buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori. pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no. Non è la prima volta che la romana si è esposta per dire la sua sull'ex fidanzato. Evidenziando come lui si stia mostrando il GF VIP diverso da chi è realmente. Non è la prima volta che la romana si stia mostrando i miei errori. Non è la prima volta che la romana si stia mostrando i miei errori.